Il 2015 sarà l'anno che istituzioni, università e associazioni dedicheranno a Palermo città educativa. A Piazza Pretoria il percorso ha raggiunto il suo momento più alto con la firma del patto educativo. Un momento di incontro e riflessione su come sia necessario dedicare pensieri e risorse all'educazione. L'operazione diciamo che ha un obiettivo ancora più alto che è quello di attivarci tutti, non soltanto le istituzioni ma anche il terzo settore, il mondo delle banche, dell'industria, la cittadinanza tutta per raggiungere un obiettivo che è quello di trasformare Palermo in tutti i suoi luoghi, in tutti i suoi spazi in città educativa. Quindi non è relegato soltanto alla scuola, è chiaro però che la scuola, in particolare la scuola dell'infanzia, giocano un ruolo fondamentale. Presente anche Pasquale D'Andrea, l'unico garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presente in Sicilia, a ruolo fondamentale il suo introdotto appena due anni fa su sollecitazione del Comitato ONU. Il garante dovrebbe garantire che vengano rispettati i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Sicuramente in una città come Palermo, come si dice, significherebbe mettersi lì per mesi e fare solo denunce. Credo che non è questo il mio ruolo, il mio ruolo è semplicemente quello di facilitare il dialogo tra istituzioni e cittadini, il mio ruolo è quello di ascoltare i ragazzi e renderli soggetti e pensare a un progetto per la città che metta al centro la questione dell'educazione.